La Toscana ospita per la terza volta didacta la più grande manifestazione sulla scuola e la formazione presentata nella sede della Presidenza della Regione a Firenze. Al convegno di apertura il 9 ottobre alla Fortezza d'Abbasso è atteso il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e poi fino all'11 ottobre 82 workshop, 67 seminari e 10 convegni rivolti a docenti, dirigenti scolastici e imprenditori. Due padiglioni della Regione dove le scuole potranno mettere in mostra le proprie attività e le imprese didattiche. Noi avremmo i nostri studenti accompagnati dagli insegnanti e si fa vedere la didattica innovativa perché la didattica innovativa c'è già in molte scuole. Noi bisogna dimostrare che questa scuola può crescere ancora, si può andare avanti e soprattutto si può presentare alle altre scuole che ancora non l'hanno applicata. Novità dell'edizione 2019 di Didacta che con gli oltre 23.000 partecipanti e il più 23% di biglietti venduti nel 2018 si conferma un evento centrale per il mondo della scuola è la scuola del futuro su un padiglione di mille metri quadri, due ambienti costruiti con una nuova concezione architettonica e un nuovo impianto metodologico. Non c'è l'aula, ci sono una serie di spazi organizzati e l'apprendimento è progettato come un percorso. Quindi gli spazi, gli arredi, le tecnologie e le metodologie sono progettate insieme. Molti i seminari e gli eventi che vedono la Regione Toscana protagonista visibili sul sito eventi.fieradidacta.it slash regionetoscana la Regione ha collaborato con l'Ufficio Scolastico Regionale che propone tra gli altri tre eventi sulla cultura musicale nelle scuole, sulla figura di Aldo Moro e sull'ecosostenibilità. Definirei come delle proposte progettuali di interesse sicuramente, di alto valore scientifico che l'Ufficio Scolastico Regionale lancia al sistema scolastico regionale perché le scuole possano autonomamente decidere di aderire, di sviluppare le tematiche proposte in modo autonomo, in modo responsabile. Presenti poi nell'edizione 2019 di Didacta un'area green e nuove sezioni espositive dedicate a sostenibilità e meccatronica.